La nostra famiglia è venuta in Toscana esclusivamente per questioni lavorative, cioè per esigenze lavorative più che altro. Non avevamo la vocazione per il bestiame come normalmente hanno tutti i sardi, per cui noi abbiamo cercato un'azienda più adatta per l'agricoltura che non per la pastorizia e qui in Val di Chiana era molto più facile trovare appunto questo tipo di situazione. Ho continuato a lavorare insieme a mio fratello perché gli altri fratelli hanno preferito chi tornare in Sardegna, chi andare da altre parti e quindi sono rimasti io e un mio fratello qui abbiamo comprato insieme un'azienda che abbiamo lavorato per circa 15 anni insieme, dopodiché mi è venuta così questa ispirazione di fare un po' questo agriturismo visto che era una nuova via comunque anche per l'agricoltura stessa. Abbiamo trovato questa azienda qui, il Poggiarello e ho cominciato, mi sono appunto buttato in questo nuovo lavoro. Ho una certa passione, anche il contatto stesso con il turista a me piace molto insomma, come mi piace il contatto con la terra, perché sono nato agricoltore e come agricoltore veramente ho veramente la passione della terra. Piano piano, passo dopo passo sono riuscito a creare anche una situazione sia piacevole per me sia piacevole anche per i turisti. Piano piano, passo dopo passo sono riuscito a creare anche un'azienda che